cari concittadine e concittadini mi trovo qui in territorio svizzero sul reno al confine con i nostri paesi vicini il porto sul reno e la città di basilea esprimono virtù tipiche della svizzera sovrana al centro dell'europa con un'economia globale connessa con il mondo capace di concentrare in uno spazio piccolissimo schienza ricerca e economia sono virtù importanti soprattutto adesso in questi tempi difficili quest'anno sono successe alcune cose che fanno vacillare le nostre certezze all'inizio il franco forte ha creato problemi a molte imprese poi il terrorismo i conflitti e la questione del rifugiati ci hanno mostrato che i rischi possono trasformarsi rapidamente in tragedie per questo è ancora più importante difendere con determinazione la nostra sicurezza e la nostra libertà inoltre in base alle possibilità che offre il nostro piccolo stato abbiamo il dovere umanitario di alleviare le sofferenze di color che fuggono per sopravvivere chi trova rifugio da noi deve rispettare le nostre regole cari concittadini e concittadini in questo momento di tempesta è bene ricordarsi dei nostri punti di forza i nostri vantaggi sono eccezionali nessun paese è più inodattivo e competitivo della svizzera abbiamo un sistema di formazione duale eccellente lo stato non è bloccato dai debiti grazie a tutto ciò quasi tutti in svizzera hanno un lavoro e una prospettiva tutto questo è anche merito vostro e del vostro impegno quotidiano come persone e come cittadini nella società e nel lavoro abbiamo il privilegio di vivere in una condizione di libertà sicurezza e benessere ma tutto questo non è scontato cosa fare per continuare così dobbiamo agire rapidamente e adottare misure urgenti anche se in popolari e dobbiamo fare tutti la nostra parte solo agendo con decisione saremo davvero efficaci i nostri compiti principali sono tre primo dobbiamo garantire la via pilaterale e con essa la nostra sovrinità l'apertura politica ed economica della svizzera verso il mondo e da sempre una strategia vincente secondo le imprese forti sono la miglior garanzia per i posti di lavoro e dunque per la sicurezza e il benessere economico la svizzera è ancora uno dei paesi più ricchi del mondo affinché rimanga tale dobbiamo garantire condizioni liberali tutti insieme per il lavoro e per il nostro paese questo era ed è il mio moto terzo ci vuole coraggio per attuare le riforme più urgenti penso ad esempio alla previdenza per la vecchiaia perché la vs ci riguarda tutti giovani e vecchi c'è un'altra cosa importante dobbiamo essere fiduciosi e non scoraggiarci il futuro non è fatto di divietti ma di idee da realizzare care concittadine e concittadini la svizzera è un paese solido e riuscire riuscirà a superare le sfide più difficili grazie alle sue forze ma solo se lavoriamo tutti insieme io mi impegnerò al massimo per trovare le soluzioni giuste nell'interesse del nostro paese insieme al consiglio federale insieme al parlamento e insieme a voi auguro di cuore a tutti voi un felice anno nuovo